Credo che questo nuovo progetto Volley Palermo sia un'ottima iniziativa. Si sa che quando le forze si uniscono si lavora sempre meglio. Quando la società mi ha chiesto di partecipare per il quarto anno consecutivo al secondo campionato di B2 non ho avuto alcun dubbio sull'accettare la loro proposta, anche perché la società è sempre stata seria e con tanta voglia di fare. Non vedo l'ora tra l'altro di cominciare la nuova stagione sia con le mie nuove compagne sia con Tommaso che è sempre stato determinato e che ci trasmette sempre tanta voglia di migliorare e di fare. Sono sicura inoltre che inizieremo con lo spirito giusto e che riusciremo a fare delle belle cose e speriamo di trovare un pubblico caloroso dato che da quest'anno giocheremo di nuovo in casa, quindi a Palermo speriamo di trovare un grande pubblico caloroso che ci sostenga partita dopo partita.